Più del 50% della popolazione mondiale soffre di tiroide, problemi alla tiroide, anche se molte volte non lo sanno. Capiamo perché la tiroide è un elemento importantissimo per la produzione della tua energia, per il tuo metabolismo, per dimagrire, per dormire meglio, per non avere caduta dei capelli, per non avere atteggiamento depressivo. La tiroide, che è qua, produce un ormone che si chiama T4. Il T4, che ha quattro atomi di iodio, viene poi convertito da un enzima in T3, che ha tre atomi di iodio. Quindi abbiamo capito già che lo iodio, mezzo mondo ne è carente, è molto importante per la produzione di T3. Il T3 determina quanto ossigeno può entrare nella cellula. La cellula, attraverso i mitocondri, produce l'ATP. L'ATP è quella che noi definiamo energia. Le persone che hanno una tiroide che non funziona bene si sentono stanche.